Di fronte ad un'opera come questa non si può far altro che rimanere in silenzio e in contemplazione. È stata ideata in questo modo la mostra della Madonna di Benoit di Leonardo che rimarrà esposta presso la Pinacoteca Comunale di Fabriano dal 1 fino al 30 giugno. L'opera è stata data in prestito dal Museo Hermitage di San Pietroburgo. L'attribuzione a Leonardo è abbastanza recente, ma si tratta di una tela dipinta nel 1448 quando il pittore aveva 26 anni e aveva appena lasciato lo studio del Verrocchio. Un capolavoro secondo il curatore Carlo Bertelli, storico dell'arte di fama internazionale. Leonardo, con la Madonna Benoit, scopre se stesso, scopre un'apertura fatta di sentimenti, ma fatta di penombre, di sfumato, di movimento, di percezione psicologica, di attenzione alla diversità, di atteggiamento tra la madre e il figlio, il figlio serio che guarda con attenzione, il piccolo fiore che è una crucifera, quindi allude a tutto ciò che gli succederà di seguito, e la mamma che in questo momento dimentica di quello che è il destino di tutti e due e quindi sorride, gioca col suo bambino. Si tratta di un esperimento leonardesco perché la Madonna per la prima volta non è in piena luce ma in una stanza come usavano fare i fiamminghi. Un'opera incompiuta, come rivela la finestra, non completata. A volere fortemente l'arrivo della Madonna di Benoit a Fabriano, Francesca Merloni, ambasciatrice UNESCO. L'evento rientra nella conferenza annuale delle città creative UNESCO che dal 10 al 15 giugno riunirà proprio a Fabriano 180 città che l'UNESCO ritiene portatrici di un messaggio di creatività importante nel mondo. Un'opera che mancava da tanti anni in Italia, 35 mi sembra, quindi in molti hanno provato ad averla in quest'anno particolare in cui si ricordano i 500 anni dalla morte di Leonardo, quindi un'occasione veramente speciale. Il fatto di ospitare questo evento, quindi l'annual conference delle città creative, 180 città da tutto il mondo, sicuramente ci ha favorito rispetto ad altre città e quindi penso che anche l'Ermitagia abbia intuito l'importanza dell'evento e il volano che potrà avere anche per loro. Sarà possibile visitare l'opera ogni giorno dalle 10 alle 20, dal 10 al 16 giugno fino alle 23.